che viene sentito, grazie, e è ricostruito attraverso un'immagine interiore. Questo è molto importante per mettere in atto i percorsi neurologici che si occupano proprio dello schema motorio e anche dei riflessi posturali, quindi tutto ciò a che fare con l'equilibrio. Per cui datevi il tempo e io continuo a ripetere le indicazioni più di una volta, anche di due volte, in modo da permettere a chi rimane indietro di cogliere l'indicazione del movimento. Per cui adesso siete sdraiati sulla schiena e cominciate ad osservare questo vostro contatto con il pavimento. Se siete, avete qualcuno vicino a voi che fa lezioni insieme a voi, prendetevi un po' di spazio perché andremo a lavorare con le braccia aperte anche sul fianco, ma ci gireremo e prendremo le braccia e quindi assicuratevi di avere dello spazio a destra e a sinistra, poi se vi toccate non succede niente, però per avere tutti lo spazio necessario a muovervi. Se volete potete chiudere gli occhi o tenere gli occhi aperti e notate un momento, le braccia sono lunghi i fianchi, le gambe sono distese. Se siete scomodi con le gambe distese le potete ripiegare, mettere i piedi in appoggio. Notate per favore le parti di voi che appoggiano più chiaramente con il pavimento. Sentite le parti di voi che sono più pesanti sul pavimento. Notate l'appoggio del bacino. Sentite quanta parte della vostra schiena appoggia a terra. Notate le parti di voi che invece hanno un contatto meno chiaro con il pavimento. Sentite l'appoggio delle scapole. Nella parte alta della schiena. In qualsiasi momento potete piegare le gambe e mettere i piedi in appoggio se siete scomodi con le gambe distese. Sentitevi liberi di trovare la vostra comodità in ogni momento. Notate la distanza tra le spalle e il pavimento. La lunghezza delle vostre braccia. Il contatto delle vostre braccia con il pavimento. Sentite la lunghezza delle gambe. Il peso delle gambe. Notate il contatto dietro la vostra testa. Piegate le ginocchia, mettete i piedi in appoggio e portate le mani sui due lati del torace, destra e sinistra. Appoggiate morbidamente in un punto comodo. E per un momento portate l'attenzione al respiro. E sentite per favore il movimento del respiro nel torace. Quando inspirate e quando espirate. Sentite il movimento sotto le vostre mani? Provate a accentuare l'inspirazione nel torace. Quindi, inspirando, espandete volontariamente, intenzionalmente il torace. Lo gonfiate. E espirandolo, sgonfiate. E sentite fin dove potete percepire in maniera libera e chiara il movimento. Inspirate, gonfiate il torace. Espirate, sgonfiate il torace. E lasciate andare. Vi girate sul fianco sinistro. Se il fianco sinistro non è comodo, vi girate sul fianco destro e invertite le mie indicazioni. Vi girate sul fianco sinistro e portate le braccia distese all'altezza delle spalle, una sopra l'altra. Le gambe sono piegate, le ginocchia sono piegate una sopra l'altra. Assicuratevi di essere comodi in questa posizione. Le braccia sono distese davanti a voi all'altezza delle spalle. Se questa posizione non è comoda, cambiate fianco e invertite le mie indicazioni. Cominciate ad aprire il braccio sinistro, scusate, il braccio destro verso il soffitto, con lo sguardo sulla mano e ritornate al centro. Fate un piccolo movimento e lo riportate giù. Sentite il lato destro che comincia ad aprirsi verso il soffitto, lo sguardo è sulla mano. Notate per favore come state respirando in questo movimento e ritornate indietro. Ad ogni ripetizione assicuratevi di arrivare a muovervi sempre con comodità. Quindi muovetevi sentendo di essere comodi in ogni momento. Aprite il braccio con lo sguardo che segue la mano e la testa ruota insieme al braccio. E sentite che arrivate in un punto in cui magari cambia qualcosa. Se andate oltre cambia la qualità del movimento. Cambia la qualità, magari sentite della resistenza. Però c'è un punto di assenza di sforzo, di assenza di peso. E quindi ancora provate a fare qualche ripetizione con l'idea di trovare questo punto di assenza di sforzo e di assenza di peso. E poi ritornate in appoggio con la mano destra, il braccio destro sul braccio sinistro. E vi fermate lì un momento. La prossima volta aprite il braccio al soffitto, lasciate però la testa lì sul fianco. Non c'è bisogno che segua. Se vuole segue, se no torna rimane lì in appoggio. Aprite il braccio verso il soffitto, lo lasciate al soffitto. E cominciate a muovere il braccio, ad allungare il braccio verso il soffitto. E poi a riaccorciarlo, ma non nel gomito. Fate scivolare la scapola verso la colonna. Quindi il braccio rimane disteso, si allunga e si accorcia verso il soffitto. Sentite la scapola che scivola sul piano delle costole. E notate che cosa succede proprio nelle costole stesse. Il braccio scivola, la scapola scivola sulle costole. Il braccio si allunga verso il soffitto. Torna indietro. E notate se questo movimento del braccio che scivola fa ruotare leggermente il torace e la testa un pochino indietro e in avanti. Il braccio è disteso. La mano però può essere morbida. Sperimentate com'è lasciando la mano morbida. Il gomito è disteso. La mano è morbida. Il braccio è disteso ma non è rigido. Bene. Tornate giù un momento. Riposate ancora una volta sul fianco. E mano a mano che riposate sentite il vostro peso che scende più chiaramente in contatto con il pavimento sul lato sinistro. E di nuovo aprite il braccio verso il soffitto. Lasciate la testa sul cuscino. Naturalmente se avete bisogno di girarla fatelo ma non è più un vincolo in questo momento. Cominciate adesso a ruotare il braccio intorno all'asse del braccio. Quindi ruotate verso l'interno e verso l'esterno. State ruotando la mano, state ruotando l'avambraccio, il gomito. E sentite se il movimento arriva anche alla spalla. Non stiamo facendo dei cerchi. Attenzione. Il braccio rimane fermo nel posto ma ruota come se fosse se steste avvitando una lampadina. Pensate di avvitare e di svitare quel movimento lì. Solo che il movimento non lo fate solo con la mano. Il movimento lo fate con tutto il braccio. E cercate di sentire che questo movimento di rotazione arriva fino alla spalla. Attenzione a non fare un cerchio. Non stiamo disegnando un cerchio. Stiamo ruotando il braccio. Immaginate di afferrare una grande manopola. Grande. E di ruotare questa manopola verso l'interno. Verso destra e verso sinistra. Interno e esterno. Sentite la rotazione di tutto quanto il braccio fino alla spalla se è possibile. E poi fermatevi e riposate. Può essere stancante tenere il braccio troppo a lungo, sollevato. Adesso ripeteremo il movimento così che lo potremo chiarire ancora meglio. Ogni volta che riposate datevi il tempo per sentire che cosa significa riposare. Potete sentire che state abbandonando la tensione in qualsiasi parte di voi. Abbandonando il peso del vostro corpo verso il pavimento. E osservate com'è il vostro respiro. Tornate ad aprire il braccio destro verso il soffitto. Cerchiamo di combinare questi due movimenti. Intanto, come prima cosa, arrivate in un punto comodo. In un punto dove sentite che il peso del braccio si annulla. E poi parleremo magari un pochino di questo. E adesso andate a ruotare il braccio mentre lo allungate. E poi ruotate il braccio mentre lo accorciate. Sentite i due movimenti di rotazione verso l'interno e verso l'esterno che si combinano con l'allungamento del braccio e con l'accorciamento del braccio. Sentite se in questa combinazione di movimenti di rotazione e di allungamento potete raggiungere più facilmente la spalla. Voglio che sentiate che cosa succede alla spalla. La scapola scivola sul piano delle costole. E potete sentire che il torace comincia a ruotare un pochino verso il pavimento e verso la schiena. Accentuate per favore questo movimento di rotazione. Il movimento non è nel polfo. È in tutto quanto il braccio. Pensate alla spalla. E pensate al torace. Pensate alle costole. Ok, bene. Tornate al centro per favore. Riposate un momento. E riposate un momento anche con le braccia piegate. In maniera da stare, riposarle veramente. E respirate. E riportate di nuovo le braccia distese davanti a voi. Una sopra l'altra. Questa volta andate ad aprire il braccio destro verso il soffitto. Sentite con lo sguardo sulla mano. E sentite com'è la qualità del movimento. E arrivate, se possibile, anche più indietro. Solo se è possibile. Se la qualità ve lo consente. E notate quanto potete aprire il braccio, aprire il torace dietro. Come state respirando in questo movimento? State lasciando il respiro fluire liberamente? O lo state bloccando da qualche parte? Cercate di capire se state... Se il respiro si ferma. Se lo state trattenendo in qualche momento e punto del movimento. Perché è importante che riusciate a sbloccare anche questo momento di apnea, questo momento di contrazione del diaframma. E dei muscoli del torace. Bene, fermatevi un momento. E riposate sulla schiena. Vi andate a girare la pancia in su. E notate com'è il vostro contatto con il pavimento. Osservate che cosa è cambiato. Dove va la vostra attenzione. Sentite che una parte ha migliorato il contatto con il pavimento? Notate che c'è un miglioramento su entrambi i lati del vostro corpo? O magari una differenza di un lato rispetto all'altro? E di entrambi i lati rispetto all'inizio della lezione? Giratevi per favore sul fianco destro. E trovate ancora una volta la posizione comoda sul fianco. È molto importante. Le gambe sono piegate una sopra l'altra. Non sono contratte, non sono tese. Sono a riposo una sull'altra. Piegate le gambe in una posizione tale da sentirvi in equilibrio. Portate le braccia davanti alle spalle, all'altezza delle spalle, distese una sopra l'altra. E cominciate ad aprire il braccio sinistro verso il soffitto con lo sguardo sulla mano. E ritornate indietro. Fate questo movimento un po' di volte cercando la leggerezza. La leggerezza in termini di assenza di peso. Sentite come organizzate il peso del braccio e come lo distribuite nel movimento in modo da sentire che nessuna parte pesa più dell'altra. La leggerezza è annullare il peso. E per annullare il peso dobbiamo distribuirlo attraverso tutto il corpo. Dobbiamo scaricarlo proprio come una struttura portante scarica il peso a terra. Una struttura architettonica. Noi siamo un'architettura meravigliosa. Il nostro corpo ha una struttura architettonica perfetta. Torniamo ad impossessarcene. Torniamo a sentirla e a farla di nuovo nostra. E riposate un momento con il braccio sinistro sul braccio destro. E la prossima volta portate solo il braccio sinistro al soffitto. Trovate un punto in cui potete lasciare il braccio che sia comodo. La testa è riposata. Cominciate ad allungare il braccio, la mano al soffitto e la fate ritornare indietro mantenendo il braccio disteso ma morbido. Sentite che il braccio si muove dalla scapola e la scapola scivola allungandosi verso l'alto, verso il soffitto, verso il soffitto. Poi si accorcia, scivola verso il pavimento, verso la colonna. Sentite questo movimento e sentite che cosa succede ai muscoli intorno alla scapola, ma anche alla struttura intorno alla scapola, al torace, alla colonna. Un movimento in cui il braccio si allunga, il torace segue, la colonna segue e poi si accorcia e anche le costole sul lato sinistro si accorciano un pochettino, si ritraggono. E così fa la colonna. Il braccio è sempre al soffitto, come se avesse una cordina attaccata al polso, per cui anche la mano è morbida. Ok, tornate a riposare il braccio un momento. E notate il vostro respiro. E di nuovo riportate il braccio al soffitto. La mano è morbida. Pensate al polso e lasciate andare la mano. E cominciate a ruotare, con l'idea di ruotare verso l'interno, verso l'esterno. Prima abbiamo dato l'idea di ruotare, come se girare, per girare una grande maniglia, per avvitare o svitare una lampadina. Ora sentite che questa rotazione, voglio che sia molto meno sulla mano e sull'avambraccio, ma su tutto quanto il braccio. Fino alla spalla, portatela fino alla spalla. E sentite che la spalla ruota verso l'interno e ruota verso l'esterno, insieme al braccio. Sentite che il braccio, il vostro braccio, è così lungo che arriva fino al centro delle spalle. Il centro, verso la colonna. In realtà è così lungo che arriva fino ad agganciarsi a tutta la schiena. Se permettete al movimento di muoversi, se lo liberate a sufficienza, sentirete che c'è un collegamento con tutta la schiena. A questo piano piano arriva, quindi non abbiate fretta. E non preoccupatevi di fare le cose giuste o sbagliate. Sentite di farle in una maniera che sia piacevole e comoda per voi. E ora riposate il braccio. Riposate, riposate le braccia nella posizione comoda. Sentite come si abbandona il vostro respiro al pavimento. Scusate, si abbandona il vostro peso al pavimento. In qualche modo anche il respiro va verso il lato destro. Verso il lato appoggiato a terra. Distendete di nuovo le braccia all'altezza delle spalle. Aprite il braccio sinistro di nuovo al soffitto. Trovate quel punto di assenza di peso. Cominciate a combinare questi due movimenti di rotazione e allungamento in una direzione, rotazione, nell'altra direzione e il braccio che si accorcia. Notate come state respirando. Cercate di sentire in che modo il torace viene coinvolto nel movimento. In questo ruotare del braccio, in questo ruotare della spalla, nelle due direzioni, il torace viene messo in movimento. Sempre di più, liberando le parti di voi dallo sforzo, quindi dalla tensione muscolare, cominciate a trovare questi collegamenti, a sentire i collegamenti a livello dello scheletro. E lo scheletro in realtà è un po' come un burattino, no? Le articolazioni sono legate tra loro da dei fili immaginari. Quindi cominciate a sentire che nel momento in cui lasciate e riducete lo sforzo, potete trovare questi piccoli collegamenti tra le parti. E tutto diventa mobile nella profondità della vostra struttura. e anche la testa si muove. Ora tornate al centro e fermatevi un momento e riposate sul fianco. Notate il vostro respiro. E di nuovo portate le braccia distese davanti alle spalle, davanti a voi, all'altezza delle spalle. Aprite il braccio sinistro verso il soffitto, lo sguardo questa volta è sulla mano. E andate anche oltre il punto del soffitto. Vedete fin dove potete arrivare? E in che momento comincia a cambiare la qualità del movimento? E ritornate sul fianco. L'altra volta abbiamo fatto questo movimento, se vi ricordate per chi c'era, che cosa fa il bacino, che cosa fa la gamba sinistra? Quindi ritornate a muovervi, aprendo il braccio verso il soffitto e indietro, con lo sguardo sulla mano. E sentite il momento in cui potete permettere alla gamba sinistra, al lato sinistro del bacino, di muoversi. E magari la gamba sinistra si apre leggermente, il ginocchio sinistro diventa più leggero sulla gamba destra. Siate comodi sulla schiena e non fate movimenti che vi portano a forzare da nessuna parte. Tornate di nuovo in appoggio. Lasciate le braccia distese e cominciate ad aprire la gamba sinistra verso il soffitto, lasciando i piedi in appoggio. Aprite il ginocchio e la gamba verso il soffitto. e le riportate giù. Il braccio rimane in appoggio. Aprite la gamba sinistra. Sentite che cosa succede al bacino. Al fianco trovate un punto di appoggio per il piede che sia comodo. Il piede sinistro si può appoggiare sul piede destro, si può appoggiare sul pavimento, si può appoggiare sulla caviglia. Decidete voi qual è il punto più comodo affinché possiate scaricare il peso della gamba il più possibile, anziché trattenerla nei muscoli. Quindi anche qui cerchiamo sempre, giochiamo con l'equilibrio, con il peso e con questa idea di leggerezza. Se il braccio rimane sul fianco, il braccio sinistro, stiamo aprendo soltanto la gamba. Scusate, il braccio sinistro rimane non sul fianco, mi sono sbagliata, sull'altro braccio in appoggio. Molto confusione. Benissimo. Bene. Adesso tornate con la gamba giù. E provate un pochettino ad aprire il braccio e la gamba insieme. E arrivate solo fin dove è possibile senza perdere l'equilibrio. Braccio sinistro e gamba sinistra. Li aprite insieme. Lasciate che la testa faccia quello che vuole. Se vuole seguire il braccio, segue il braccio. Se vuole rimanere sul fianco, rimane sul fianco. Ma fate attenzione a non forzare sul collo in nessun momento dell'azione. E ritornate. Sentite come questo vi porta naturalmente a rotolare indietro. Giocate un pochino con il peso. Sentite fin dove è possibile andare. E notate che tutto il lato sinistro si muove. E il lato destro rimane... Si muove anche lui. Anche il vostro lato destro è in movimento. Ma si muove in relazione al pavimento. Quindi si muove nell'aggiustare la vostra posizione continuamente. Continuamente nel contatto con il pavimento. Tornate un momento sul fianco. Riposate sul fianco. Andate per favore a aprire il braccio verso il soffitto. Lo sguardo, se volete, sulla mano. Se siete più comodi. Mentre richiudete il braccio, lo riportate in appoggio sull'altro braccio, aprite per favore la gamba sinistra. Come avete fatto prima. Mentre chiudete il braccio, aprite la gamba. Benissimo. E mentre chiudete la gamba, aprite il braccio. E cominciate ad alternare una volta muovendo la parte alta, una volta muovendo la parte bassa. E notate che cosa fa la testa. La testa segue il braccio o segue la gamba. Notate come state respirando. Rallentate, se necessario, il movimento per sentire quello che state facendo. Notate com'è il vostro respiro. E sentite che cosa succede nel centro del vostro corpo. Come si organizza questo movimento a livello del vostro centro. Della vita, dei fianchi, di questo spazio tra il torace e il bacino. In cui si organizzano le forze, si organizza l'equilibrio a livello biomeccanico. Quando volete tornate e riposate. Quando volete tornate e riposate. Se il movimento è piacevole, che volete continuare a farlo, ad esplorarlo, lo potete fare. Ma se no, riposate. E fermatevi adesso un momento, se non l'avete ancora fatto, di nuovo sul fianco. E andate nuovamente ad aprire il braccio sinistro verso il soffitto con lo sguardo sulla mano. E cominciate a portare il braccio. Continuate a portare il braccio verso il soffitto e indietro verso il pavimento. E sentite com'è. Sentite com'è. Sentite com'è se potete andare più facilmente indietro. E poi ritornate sul fianco. Naturalmente la gamba sinistra è libera di seguire il movimento come vuole. Bene. Tornate e ruotate completamente sulla schiena e vi riposate sulla schiena. Osservate com'è il contatto sul pavimento. Notate se c'è una differenza tra un lato e l'altro del vostro corpo. Se c'è una differenza nelle sensazioni. Delle diverse parti di voi. Vi girate sul fianco sinistro di nuovo. e vi posizionate in maniera comoda sul fianco. Le gambe sono piegate una sull'altra comodamente. Le braccia sono distese una sull'altra. all'altezza delle spalle. E di nuovo andate ad aprire il braccio verso il soffitto indietro, verso il pavimento con lo sguardo sulla mano. E sentite com'è adesso. Da questa parte. Da questo primo lato. Sentite se qualcosa si è ammorbidito nel movimento. E notate mentre fate questo lavoro. Il lato destro che si muove, che vi muove nello spazio. Il lato sinistro che si organizza per muovervi sul pavimento. Quindi il lato d'appoggio, il lato della stabilità, il lato del peso che si scarica a terra. Il lato del movimento nello spazio. Lo sguardo organizza il movimento nello spazio insieme al braccio in questo momento. Lasciate che le gambe si separino nel momento in cui sentite l'esigenza di farlo. E poi di nuovo tornate sul fianco sinistro e riposate sul fianco. Lasciate le braccia, lasciate il braccio destro in appoggio. E iniziate ad aprire qualche volta la gamba destra verso il soffitto. E poi la riportate in appoggio. Trovate un punto comodo per il piede. Il piede, le gambe sono piegate. Il piede destro è in appoggio sul piede sinistro. O in un altro punto, magari sul pavimento, sulla caviglia. Dove siete più comodi? Sentite la possibilità di scaricare questo peso a terra. Il peso della gamba, anziché trattenerlo sui muscoli. Tornate al riposato un momento. La gamba non si solleva dritta. Attenzione, perché vedo qualcuno che solleva tutta la gamba. E non è questo, è solo il ginocchio che si apre. Quindi la gamba si apre, ma il piede rimane in contatto con l'altro piede o col pavimento. Fermatevi un momento e riposate. E la prossima volta, aprite il braccio e la gamba insieme. E sentite com'è. Braccio e gamba insieme. Fin dove potete arrivare, notate che cosa fa la testa. Se vuole ruotare insieme al braccio, se vuole rimanere un pochettino piegata verso il pavimento. Cercate di bilanciare il movimento in maniera comoda. In maniera da avere, da mantenere un equilibrio. Senza che dobbiate trattenere l'equilibrio nei vostri muscoli. Questo rotolare indietro è uno sbilanciamento indietro. Come potete rendere più sicuro questo sbilanciamento, questa rotazione indietro? Sentite di ammorbidire il torace e la schiena mentre fate questo movimento. E potete arrivare solo dove volete voi. E il lato sinistro si aggiusta, si organizza per accogliere il peso al pavimento. E trasportarlo al pavimento. Trasferirlo. Tornate pure al centro e riposate un momento. E notate il vostro respiro. E di nuovo portate il braccio verso il soffitto con lo sguardo sulla mano. E cominciate a chiudere il braccio e riportarnolo in appoggio sull'altro braccio mentre aprite la gamba e il ginocchio verso il soffitto. Il piede rimane da qualche parte in appoggio. Mentre chiudete e riportate giù la gamba, aprite il braccio al soffitto. Lasciate che la testa segua il braccio se la vuole seguire. Ma se non sentite che c'è una scomodità nel collo, lasciate la testa giù. E continuate ad alternare una parte e l'altra. E notate per favore com'è questo movimento e come potete renderlo più semplice, più facile. I piedi rimangono in contatto uno sull'altro. Solo il ginocchio e la gamba naturalmente si stacca. Sentite che cosa succede nella vita, dove si organizza questo movimento nel centro, come si organizza nel centro del vostro corpo. E tornate di nuovo al centro. Appoggiate le braccia giù, le gambe. Riposate un momento. Tornate ad aprire il braccio verso il soffitto e indietro con lo sguardo sulla mano. Sentite com'è il movimento adesso. Notate fin dove potete arrivare con facilità. Permettete alla gamba destra di staccarsi un pochino dalla gamba sinistra. e poi continuate il movimento fino a tornare a girarvi sulla schiena. E prendetevi un momento per sentire come siete appoggiati sulla schiena adesso. E potete restare sulla schiena con le gambe distese, con le gambe piegate. Notate com'è distribuito l'appoggio adesso sul pavimento. Che cosa attrae, attira la vostra attenzione? Che cosa notate che è cambiato in maniera più significativa per voi in questo appoggio dall'inizio della lezione? Sì. Sentite il contatto. Sentite un contatto più pieno di tutta quanta la schiena sul pavimento? Potete notare che i due lati sono più uguali e il peso è distribuito in maniera equilibrata su tutti e due lati del vostro corpo. Notate se c'è una sensazione di maggiore presenza del vostro asse centrale. Come se le due parti fossero più ricompattate verso il centro non l'abbiamo messo in evidenza all'inizio ma torneremo su questo concetto su questa idea dell'asse centrale del corpo. Sentite se in qualche modo nella vostra percezione, immagine interiore se questo asse combacia di più con la colonna si sovrappone alla colonna e se c'è anche la presenza, la percezione della vostra colonna vertebrale. Ora piegate le gambe mettete i piedi in appoggio preparatevi un pochino a venire a ruotare sul fianco per venire a sedere per cui se avete bisogno di inclinare le ginocchia a destra a sinistra e ruotare un pochino la testa insieme alle gambe per prepararvi a ruotolare su un fianco e poi venire a sedere e poi gradualmente venire in piedi. E come sempre cerchiamo di creare questa transizione da una posizione all'altra come parte integrante della lezione cercando di sentire di mantenere la stessa qualità di attenzione se avete bisogno di rimettervi gli occhiali rimettetevi gli occhiali per chi li ha tolti quando venite in piedi prendetevi tutto il tempo senza affrettare sentite come state in piedi notate com'è questo contatto con la pianta di piedi a terra sentite se c'è una sensazione del peso del vostro peso che si scarica al pavimento c'è una sensazione anche di presenza di questo asse verticale di questo asse centrale provate a spostare il peso a destra e a sinistra sentite come si organizza nelle anche e poi continuate camminate un pochino nella stanza sentite com'è apri i vostri microfoni così mi dite come state come va com'è andata come vi sentite benissimo ci sono delle cose che volete condividere io mi sento tutto delicatamente attivato bene delicatamente stiracchiato delicatamente anche contratto perché c'è un po' di contrazione un po' di stiracchiamento la contrazione senti come la chiami contrazione perché senti che c'è una tensione o c'è un'attivazione attivazione ok quindi una contrazione attiva un risveglio una sì una cosa molto delicata sì un'attivazione più giusto bene bene ottimo io sento il bacino molto più sbloccato quindi mi riesco a muovere molto più facilmente ottimo questo c'era un po' lo schema del camminare in questa lezione questa differenziazione tra le spalle e il bacino che abbiamo già introdotto insomma con la quale continueremo a lavorare visto che sappiamo quanto la funzione poi del camminare sia importante per per la salute insomma della per stimolare comunque la corteccia motoria per stimolare varie parti diciamo del cervello e quindi questo lavoro di differenziazione tra le spalle e il bacino potete un po' sentirvelo giocarci portarci attenzione prestare e continuare a prestare attenzione durante questi questi giorni questa settimana magari quando ci rivediamo l'artedi prossimo ci diciamo qualcosa e se vogliamo prenderci un momento di condivisione un po' più lungo lo potete comunicare lo possiamo organizzare insomma va bene va bene grazie a voi grazie grazie mille grazie alla prossima settimana grazie tantissimo un abbraccio buona giornata a tutti ciao grazie ciao ciao a tutti ciao Andrea grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti